Stasera torneremo indietro nel tempo di qualche tempo, precisamente nell'antico Egitto. Ora, c'è da dire che per gli egiziani l'esistenza terrena attraversava tre momenti fondamentali, misteriosi e complessi, la vita terrena, il momento della morte e la vita oltraterrena. Ora, riguardo alla vita terrena, dai ritrovamenti archeologici, ovviamente questi ritrovamenti sono praticamente scarsi, non soltanto abbiamo ritrovato tombe, le piramidi, opere grandiose, ma riguardo alla vita, come era vissuta dagli egiziani, sappiamo ben poco e i documenti a riguardo sono pochissimi. Qualcosa ci dice, ci dice Rodoto, che era uno storico greco del quinto secolo avanti Cristo. E lui cosa ci dice? Ci dice che gli antichi egizi erano un popolo che praticava il culto dei morti, ma amava intensamente la vita. Ora, questa può sembrare una contraddizione, ma in realtà non lo è. Proprio questo perché gli antichi egizi erano la vita terrena come un dono degli dèi. Questo per far sì che si erano preparati alla vita oltraterrena, erano come un'occasione, proprio per vivere in quello che loro pensano, il paradiso nell'aldilà. E questo si può capire bene dalle immagini che noi troviamo dipinte all'interno delle varie tombe. Ci sono vari momenti di vita che rappresentano proprio i momenti vissuti e di gioia degli egiziani. Io ne ho messo i tre per capire un po' che riguardano dei momenti precisi della vita e che ci fanno capire proprio questo aspetto. Infatti in questa immagine vediamo come gli egiziani non trascurassero l'aspetto esteriore, infatti vediamo delle donne che si occupano della propria bellezza. Tengono, quindi tenevano, possiamo capire in considerazione il loro corpo e quindi la storia. In quest'altra immagine vediamo delle donne, una suona al flauto, le altre cantano e ascoltano e quindi si può capire come anche i momenti di cultura, di svago fossero in voga presso gli egiziani. E poi ho messo quest'altra immagine e rappresenta una scena di caccia. Per loro i momenti di hobby o di sport. Praticamente si può dire che anche la caccia è stato uno sport, è stato praticato dalle classi nobili fino a pochi anni fa, quindi rappresenta anche questo aspetto. Ma c'è da dire però che questo era così pervaso dell'idea dell'immortalità che ha eretto opere colossali come possono essere la sfinge e le piramidi. E' innalzato templi che ancora oggi sfidano il tempo, proprio per portare a noi un messaggio, quell'idea che loro avevano della vita dopo la morte. E come lo vedevano là di là gli egiziani? Si può dire che vedevano l'aldilà come un riflesso dell'ambiente in cui vivevano e una continuazione felice della loro vita sulla terra. E a chi si fosse dimostrato degno veniva affidato con una visione feudale un lotto di terra, ma un lotto di terra particolare, quindi una terra fertile, fecondissima, piena di risorse d'acqua, non mancava mai l'acqua, e con piante di grano alte due metri, frutti giganteschi, insomma una terra in cui non avevano bisogno di faticare per continuare ad andare avanti. Era tutto lì presente, rigoglioso, senza problemi. E questi campi venivano chiamati, o meglio, prendevano il nome di campi iaro o campi otep, in egiziano sekhet iaro o sekhet otep, rappresentavano i campi sacri quelli egiziani e sono paragonabili ai campi elisi della tradizione degli antichi romani. Un'altra possibilità per il defunto era anche quella di salire sulla barca di Ra, entrando nel suo seguito ed effettuando con il Dio Ra e il viaggio del sole nel cielo, proprio per illuminare, per portare la vita e la prosperità a tutto l'Egitto. Ora c'è da dire che però, per arrivare a lavorare nei campi, oppure per viaggiare sulla barca di Ra, il defunto egiziano doveva compiere molti viaggi, superare molti ostacoli e soprattutto superare una prova finale, ovvero la pesatura del cuore, che da Grecia è stata poi successivamente chiamata psicostasia. E in questa prova il defunto egiziano non aveva scelta, o la superava, o se non l'avesse superata sarebbe morto per l'eternità, quindi aveva soltanto un'opzione, superarla. E quindi abbiamo visto che nella vita si doveva ovviamente preparare. Ma però c'è da dire che in tutto questo itinerario egiziano era sicuro di arrivare alla meta, proprio perché durante la vita sapeva innanzitutto a cosa andava incontro, proprio perché aveva un sostegno, un supporto ed anche un itinerario tracciato, e questo itinerario al supporto era proprio il libro egiziano dei morti. Eccolo qua. Ora c'è da dire che intanto noi dobbiamo iniziare a chiamarlo, però con un altro nome. È stato chiamato così il libro dei morti, proprio perché gli arabi che violarono le tombe delle necropoli faraoniche, chiamavano qualsiasi rotolo che vi trovavano il libro del morto, proprio in maniera generica, sia fosse un trattato di matematica o di chimica, oppure un libro che riguardava proprio la vita sul dà, prendeva sempre questo nome. In arabo, Kitalb el-Maitun, letteralmente morto. Il suo vero nome in egiziano è Premru, che letteralmente significa libro di uscita al giorno. Ed ecco che con questo nome probabilmente gli antichi egizi volevano indicare il passaggio dell'anima ad un nuovo stato di esistenza nell'aldilà, quindi uno stato di esistenza luminoso, diciamo così, sotto la luce della divinità di Ra, in questo caso. Ora, il libro che noi oggi conosciamo, l'abbiamo visto anche nel museo di Torino, da tante parti, è un rotolo di papiro che ha una lunghezza stabile, va dai 3 ai 5 metri, lo più lungo diciamo che intorno ai 16 metri, ed è composto da circa 160 capitoli. E ora, ho detto capitoli, ma in realtà non sono proprio esattamente dei capitoli, perché questo nome è stato dato loro dai primi traduttori. In realtà, la sua traduzione esatta è Formula, proprio perché all'inizio di ogni capitolo dei morti troviamo questo geroglifico, che vediamo nell'immagine, questo geroglifico a forma di bocca, il geroglifico Ro, che ha proprio il significato di bocca, discorso, formula oppure incantesimo. E da questo si può capire come il libro egiziano dei morti sia quindi una raccolta di formule, quindi un compendio magico, a cui lettura si voleva arrivare al raggiungimento di ben precisi effetti. Ora, se noi guardiamo questo geroglifico, ha la forma di bocca e ci dice anche, anche così intuitivamente, ci dice già che la bocca rappresenta la parola, il parlare, quindi ci indica anche che le formule del libro egiziano dei morti dovevano effettivamente essere lette. Infatti queste formule, il giorno del funerale, venivano lette da lettore, che in egiziano veniva chiamato, che con giusta voce e impersonando il defunto, accompagnava la processione funebre proprio fino all'interno della tomba. E infatti, nel primo capitolo introduttivo del libro egiziano dei morti, si legge, formule da leggere il giorno del funerale, arrivando alla tomba e prima di andare via. Ora ho detto che il sacerdote fa queste formule con giusta voce. Per giusta voce c'è da dire che si intende non soltanto la corretta pronuncia della formula, ma alla corretta pronuncia doveva essere associata anche un'intenzione, una giusta intenzione, quindi un'azione volitiva. E tutto questo anche supponeva la conoscenza del potere vibratorio della parola stessa. Questo perché per gli egiziani la parola, ma sopra la vibrazione che generava attraverso la corretta pronuncia della parola, aveva proprio un aspetto creativo, che andava ad agire su tutti i piani invisibili della creazione. Il sacerdote non si limitava soltanto a guidare il defunto. Verso la lettura delle formule c'era proprio la convinzione di un'azione magica, che andava a sostenere il defunto in questo suo viaggio, in questo suo cammino nell'aldilà. Erano quindi, diciamo, convinti che attraverso questo aspetto magico, quindi attraverso la lettura delle formule, la salvezza fosse quindi alla portata di tutti. A volte erroneamente pensavano che bastasse questo e la salvezza si potesse arrivare alla salvezza anche senza meriti. Ora c'è da dire che questa concezione di arrivare anche alla salvezza senza meriti, ma soltanto attraverso questa azione magica, è un aspetto che si ritrova soprattutto nei periodi più tardi, perché all'inizio, quando c'era, all'inizio, nei primi periodi della tradizione iniziale, quando era più pura, questo aspetto era meno accentuato, c'era più un aspetto del guadagno della libertà della salvezza. E sono ovviamente dai primi periodi, fino ad arrivare poi negli ultimi periodi, le ultime dinastie faragoniche, soprattutto in epoca, prende sempre più piede. E si arriva quasi a rasentare gli aspetti neri, ad esempio in epoca trolemaica, qualsiasi cosa dovessero fare? Avevano una forza posizione, volevano cercare la formula per trovare il lavoro, si volevano attraverso la fortuna, avevano la formula e la posizione per tirarsi la fortuna. Insomma, nell'ultimo periodo si vede, degrada questo aspetto della tradizione iniziale, fidano tutto soltanto ad un aspetto magico, erroneamente possiamo dire. Ora c'è da dire che il libro egiziano dei morti, diciamo, non nasce già così, ma subisce un'evoluzione durante tutto l'arco del tempo, dall'inizio, dalle prime dinastie faraoniche fino alle ultime. All'inizio questi testi erano redatti soltanto per il faraone e per una ristretta cerchia di individui. Erano tramandati in maniera, quindi da bocca all'orecchio, era conosciuto questo testo soltanto da poche persone. E la redazione del testo si perde in tempi mitici, non sappiamo quando è stato redatto, infatti per gli egiziani questo libro era stato donato loro dal dio Thoth, dio della sapienza ed inventore dei geroglifici. Quindi si parla di tempi arcaici, quindi quando le divinità erano presenti con gli uomini sulla terra, non sappiamo in realtà quando. E questo dio, lo vediamo da queste immagini, è solitamente raffigurato con il corpo di uomo e con la testa di Ibis. E spesso tiene in mano un taccuino ed una penna e su questo taccuino annota tutto quello che gli accade intorno. Ora, le prime fonti scritte che noi abbiamo risalgono ai cosiddetti testi delle piramidi e questi testi si trovano incisi sulle pareti delle piramidi, soprattutto nelle piramidi di Sakkara, quindi quelle del fine Quinta dinastia, inizio prima di Sesta dinastia, quindi soprattutto quelle di Pepi I, che le troviamo distrutte, sono state ricostruite recentemente dagli archeologi, ci sono anche dei documentari in televisione, si vedono benissimo. E che cosa si tratta? Ho detto a Sakkara, questa è la piramide di Joser, sempre terza dinastia, però è presente lì a Sakkara, poi ci sono anche altre piramidi, praticamente sembra che si svolga tutto in questo luogo, a Sakkara, l'intorno. E cosa sono queste terze piramidi? Sono alte colonne di geroglifici scolpite sui muri di pietra in cui non sono presenti illustrazioni. E che cosa ci descrivono? Ci descrivono come il re, disceso all'inferi, debba ascendere per arrivare a identificarsi al Ra, il Dio Supremo, e vivere con lui in eterno quale purissimo e splendente spirito, che gli egiziani chiamavano Akk, diciamo così. Ora poi, a partire dalla Sesta Dinastia, avviene la cosiddetta democratizzazione del culto, ovvero viene concesso al popolo di conoscere però in maniera più semplice ed esteriore, quindi sotto un aspetto esoterico, tutti i rituali che erano destinati al defunto. E quindi il defunto comune che fino a quel momento non aveva avuto accesso ai rituali che dovevano accompagnarlo nell'aldilà, può prendervi parte e viene addirittura elevato al rango di Osiride. Chi era Osiride per gli egiziani? Allora, lo diciamo brevemente perché è una storia lunghissima. C'è da dire che Osiride si può dire rappresenti l'uomo perfetto, l'uomo Dio, non a caso era il figlio di Ra. Osiride muore, risorge e diviene il padre della tomba e il patrono dei misteri della rinascita. Si può quindi dire che Osiride è come un messia, o meglio una sua prefigurazione, e quindi l'uomo, seguendo il suo esempio e uniformandosi dai suoi insegnamenti, si può identificare a lui e quindi diventare nell'aldilà anche un Osiride, essere simile al Dio che presiede oltretomba, diciamo. Ora c'è da dire che nuovi rituali esoterici, come ho detto prima, più semplici e destinati anche al popolo, iniziano a prendere vita nei cosiddetti ercofagi, nei quali si mescolano amici dei precedenti testi delle piramidi e in essi, per la prima volta, appaiono delle rappresentazioni, quindi delle scene illustrate, che sono così chiamati, si può capire dal nome, proprio perché erano disegnati sui sarcofagi che contenevano le mummie e diciamo che il loro sviluppo va dal primo periodo intermedio fino al Medio Regno, quindi dalla Sesta alla XII dinastia, e sono la transizione per il successivo Libro dei Morti che si svilupperà dal nuovo impero in poi. Ora, con il passare del tempo, questi testi subiscono ulteriori trasformazioni, ovvero che cosa succede? Gli iscrivi che potevano attingere ai testi presenti nelle piramidi, oppure alcuni iscritti contenuti nei tempi proprio perché ne avevano accesso in quanto li iscrivevano, sono delle parti in cui è là che aggiungono dei capitoli, delle formule al Libro Egiziano dei Morti fino ad arrivare a quello che conosciamo noi adesso. Addirittura, in epoca tolemaica, questo libro, il Libro Egiziano dei Morti, quindi questo rotolo di papiro lungo dai 4 ai 10 metri, era praticamente ciclo stilato, era già pronto, bastava scrivere il nome del defunto e quindi era pronto per essere utilizzato. Erano arrivati addirittura a questo. C'è da dire che il Libro Egiziano dei Morti non costituisce per gli egiziani il testo sacro come possono essere i Veda, il Corano e neanche un rituale funerario in quanto in esso gli aspetti ritualistici sono molto scarsi, ma come ho detto prima un formulario, un compendio magico, una raccolta di formule, attraverso la lettura il sacerdote voleva ottenere dei precisi effetti così che il defunto fosse libero di affrontare quel viaggio che l'aspettava nell'aldilà. Ora c'è da dire che gli Egizi avevano una concezione dell'uomo già millenni prima di Cristo molto avanzata, in quanto non avevano concezione dell'uomo soltanto sotto un aspetto materiale, ma vedevano l'uomo, una costituzione dell'uomo, quindi degli aspetti invisibili, durante la vita l'uomo non poteva avere, insomma tanti elementi invisibili che componevano la persona umana e che adesso vi andrò a elencare, ho fatto un po' di confusione scusate. Tanto il primo aspetto è il cat, che per loro era il corpo fisico, però non il corpo fisico come lo conosciamo noi, infatti la radice della parola cat significa putrefatto, quindi il cat per gli egiziani era il corpo che va decomponendo e che attraverso poi il rituale dell'imbalsamazione sarebbe stato reso incorruttibile. Poi il secondo aspetto, scusate, fa sempre questo, il secondo aspetto è il sau, che come ci dice Alessandro Benassai nei misteri dell'antico Egitto, è il corpo spirituale, luminoso, incorruttibile ed eterno, il corpo della resurrezione o osiridificazione, che si formava dal cat in virtù di una pratica magica. Prima questa pratica magica era proprio il rituale dell'imbalsamazione che sappiamo aveva una durata di circa 70 giorni e praticamente venivano, in questo rituale venivano compiuti dei processi, secondo anche una scienza precisa, dovevano portare il corpo fisico a vivere per tutta l'eternità, quindi il corpo mommifiato doveva durare, secondo gli egiziani, per tutta l'eternità. E fra l'altro, come veniva compiuto questo rituale? Si ritrovano delle formule all'interno del libro egiziano dei morti, infatti in esso vi ha una formula che ci dice, proprio chiamata formula per fare il sau, e in questa formula il defunto è assimilato al Ra. Che cosa dice questa formula? Nel cielo e nella terra possono essere lui sottratti, perché egli è Ra il primogenito degli dèi, quindi già assimilavano il defunto al Dio Ra. E poi sempre al capitolo 145, via l'affermazione, resterò fino alla fine con la mia carne e la mia anima. Quindi da qui si capisce anche come avessero la concezione che il corpo mommifiato gli sarebbe servito da strumento per tutta l'eternità, quindi avrebbe dovuto esistere per tutta l'eternità. C'è da dire che pittograficamente il sau viene rappresentato sotto la forma di un uomo avviluppato da un lenzuolo funebre, in pratica alla forma di un sarcofago, vediamo con il lenzuolo girato intorno. In epoca arcaica il sau non era altro che una parte del ka, che andremo a spiegare fra poco, ma immortale e che alla morte se ne ritornava in cielo. Poi abbiamo il terzo aspetto di questa costituzione invisibile degli egiziani. Un aspetto cruciale per gli egiziani, diciamo, era appunto il pernio che li faceva decidere la loro sorte nell'aldilà e lo vedremo poi nel proseguo della conferenza. Che cos'è il ka per gli egiziani? Ce lo dice Alessandro Benassai, sempre nei miti dell'antico Egitto. Il ka è l'animatore del corpo fisico, compenetra il corpo fisico e fa funzionare gli organi della vita vegetativa. È la sede della vita emotiva e dell'automatismo intellettuale. Corrisponde al cuore. Ora, per gli egiziani il ka era una copia fedele, esatta, del corpo fisico, però fatta di una tenua energia, luminosa e corrisponduta, ed era quindi un corpo energetico che occupava la posizione intermedia fra il corpo fisico e l'anima. In vita aveva la funzione di mantenere in vita il corpo fisico e alla morte ovviamente si separava dal corpo fisico e il corpo fisico, vedendosi mancare le energie organizzatrici del ka, andava poi a decomporsi in pochissimo tempo. Poi alla sepoltura si compivano le ultime cerimonie che consistevano proprio nel congiungere il ka alla statua del defunto presente all'interno della tomba. Che, in questo modo, il ba sarebbe stato capace di passare alla condizione di una o, quindi di uno spirito luminoso che era espressione dell'individualità. C'è da dire che per gli individui comuni il ka si manifestava soltanto dopo la morte, soltanto il ka del faraone si manifestava durante la vita e poteva essere rappresentato. Questo perché il faraone era il riflesso solare del dio oro. E c'è da dire che questa manifestazione del faraone per il popolo egiziano era molto importante perché per loro rappresentava, era come un dono di fertilità, di protezione e di benessere anche, proprio perché rappresentava la presenza della divinità che proteggeva e faceva prosperare tutto l'Egitto. Divinità presente nel faraone che personificava la divinità. C'è da dire poi, e da ora la chiameremo così, che la tomba veniva chiamata la casa del ka, proprio perché, ora lo vedremo fra un po', diventava proprio la sua casa. Poi il quarto aspetto è il ba. L'Egiziani era l'anima, l'essenza vitale e il suo simbolo, nei tempi più antichi, era una cicogna nigra, mentre nel nuovo impero prende la forma di un uccello antroposcepolo. Lo vediamo in questa diapositiva, quindi con il corpo di uccello e la testa di uomo. E sovente è anche raffigurato mentre si reca ad apportare il soffio vitale alla mummia, proprio attraverso un ventaglio a forma di vela. Per gli egiziani essere ba significava trovarsi nello stato di divinizzato, e c'è da dire che anche il ba, come il ka, per sopravvivere aveva bisogno di nutrirsi. Infatti molte scene è proprio raffigurato sotto l'aspetto di un uccello antropocefalo, mentre si abbevera allo stagno sacro, oppure in atto di ricevere cibi e bevande dalla dea dell'albero, che come vediamo in questa diapositiva si può capire bene, simboleggi proprio la fonte dell'acqua della vita. Acqua della vita è un simbolo che ritroviamo ancora oggi nel cristianesimo. Poi il quinto aspetto è l'ak o q, che come ci dice sempre Alessandro Benassai nelle serie dell'antico Egitto, è il principio igno spirituale, la mente che compenetra il corpo fisico e il doppio, sede della coscienza ragionante, del pensiero, corrisponde al cervello. C'è da dire che l'ak rappresenta quindi la suprema radianza dei principi spirituali, quindi quell'aspetto spirituale che è al vertice di tutta la gerarchia. E pittograficamente, lo vediamo in questa diapositiva, è rappresentato dall'ibis, che per gli egiziani era un uccello sacro e costituisce la forza divina. Etimologicamente per gli egiziani essere ak significava o equivaleva a essere un glorioso, quindi uno splendente. Si può dire che rappresenti l'anima divinizzata o meglio il ba divinizzato. Poi abbiamo l'ultimo aspetto, ne ho presi sei ma loro ne hanno un'infinità di questi aspetti della sostituzione invisibile. L'ultimo aspetto molto importante per gli egiziani è il ren. Il ren è il nome, ma non il nome dell'individuo. In realtà si tratta del nome segreto e praticamente il ren rappresenta, o meglio è, il vero individuo, il logos. E per gli egiziani l'uomo, nel momento in cui riceveva il nome, riceveva quindi una sua ben determinata identità e un suo destino, quindi un destino già scritto, proprio in base al nome che gli veniva dato. E questo, la parola nome in geroglifio è rappresentata, come vediamo in questa diapositiva, da una bocca sopra le acque. Ora, per gli egiziani, la bocca aperta rappresentava l'onnipotenza di Ra, il verbo creatore, mentre la linea ondulata in generale rappresentava le acque, oppure più in generale un fluido. Ecco che quindi questo geroglifio, la bocca aperta sulle acque, rappresenta quindi il verbo creatore che con la sua parola, con quella vibrazione della parola che si riflette sulle acque primordiali, sul nun, dà inizio a tutta la creazione. Ecco che così per l'uomo questo nome rappresentava la sua essenza, quindi il vero individuo, come il nome delle varie cose, quindi il nome segreto dei vari oggetti, rappresentasse quell'oggetto stesso. Infatti per questo motivo gli egiziani tenevano in gran considerazione questo aspetto del nome, tant'è che i sacerdoti egiziani tenevano segretissimi i nomi di divinità e i nomi dei faraoni, ma soprattutto la pronuncia esatta dei nomi delle divinità e dei faraoni. E questo si può capire bene da come erano scritti i nomi dei faraoni, infatti li troviamo sempre circondati da questo simbolo chiamato cartiglio, che significa proprio colui che circonda e protegge. Perché per gli egiziani conoscere il nome di una persona o di una cosa era come avere il potere e il dominio su quella cosa, sia che fosse appartenuta ad un essere umano, animato, oppure a una cosa materiale presente in tutta la creazione. E c'è da dire che fra l'altro questa importanza del nome era così grande che quando volevano andare ad agire contro qualcuno c'era l'usanza di cancellare il nome, quindi cancellavano il nome scolpito all'interno dei templi, dei sarcofei, e impedivano a tutti di pronunciarne il nome proprio perché per loro pronunciare il nome voleva dire rendere viva una persona. Ecco quindi con la cancellazione del nome questo gesto rappresentava proprio il fatto di cancellare questa persona dalla creazione, quindi la cancellavano anche all'interno spirituale secondo la loro concezione. e questi casi si ritrovano soprattutto in epoca amarniana, nel periodo del faraone Achenaton, sono molto diffusi questi casi. Addirittura per particolari criminali era in voga la pratica di debattezzare, così la chiamavano, ovvero di toglierli il nome, proprio con questa tecnica che vi ho detto prima. Non solo, ma questa tecnica di togliere il nome veniva usata anche quando venivano usurpate le tombe dei precedenti proprietari, infatti è cosa che bastava cancellare il nome presente sugli oggetti all'interno della tomba, sostituire il proprio nome a quello cancellato, ed ecco che le formule pronunciate su questi oggetti avrebbero conservato la loro efficacia anche per il nuovo venuto che sarebbe impossessato di questi oggetti. Diciamo questa era un po' la concezione che avevano gli antichi egizi. E detto questo, arriviamo al momento cruciale, quindi al secondo punto fondamentale dell'esistenza umana secondo gli egiziani, il momento della morte. Che cosa succedeva al momento della morte? Allora, innanzitutto il cadavere veniva portato alla tenda di purificazione, ce lo dice il nome proprio, tenda di purificazione. Veniva portato in questa tenda e qui subiva una prima purificazione, quindi un lavaggio rituale per togliere dalla salma tutte le impurità. E dove avveniva questo lavaggio? Avveniva in uno specchio d'acqua a forma di T o Tau, che era sempre nelle vicinanze della tenda di purificazione. E questo simbolo, la forma di questo specchio d'acqua che a forma di Tau, è un simbolo molto antico che anche oggi troviamo nel cristianismo, se uno vuole può anche approfondire. Poi c'è da dire che dopo aver subito questa prima purificazione rituale, il cadavere veniva portato al laboratorio degli imbalsamatori. Qui rimaneva circa, ho già detto prima, 70 giorni. E in quest'arco di tempo il corpo fisico che era soggetto a purifazione, veniva mummificato e oltre alla mummificazione nel tempo ovviamente veniva poi ricoperto di bende di lino e all'interno delle bende venivano inseriti degli oggetti particolari che servivano come supporto al defunto per il viaggio avrebbe compiuto nell'aldilà. E sempre in questo rituale ovviamente venivano usate le formule presenti all'interno del libro egiziano dei morti per caricare gli oggetti, magicamente gli oggetti inseriti, ed altri riti proprizzatori per il defunto. Uno degli oggetti che si ritrova in quasi tutte le mummie ritrovate nell'antico Egitto è lo scarabeo, lo scarabeo sacro. Questo scarabeo veniva messo sul cuore del defunto, proprio all'altezza del cuore, perché aveva una funzione particolare. Doveva sostituire l'anima del defunto nel momento della psicostasia, nel momento in cui il defunto avrebbe professato la sua confessione negativa e lo vedremo fra un po' come è questa confessione negativa. E c'è da dire che su questo scarabeo veniva, oltre a essere caricato con una formula del libro egiziano dei morti, questa formula veniva anche scritta sullo scarabeo, lo vediamo in questa immagine, è direttamente così. Intanto già da questo si può vedere. che gli egiziani non avevano soltanto una concezione avanzata sotto l'aspetto invisibile, ma avevano una concezione avanzata anche dell'aspetto cardiaco della persona. Infatti qui si vede come chiamino Ati il cuore fisico, mentre chiamino Jeb o Ab, dipende da come viene letto, il cuore spirituale. Quindi quell'aspetto spirituale che poi dovrà essere pesato durante il giudizio finale sulla bilancia. Ora, poi, dopo aver subito tutto il rituale dell'imbalsamazione, il defunto veniva poi, a questo punto era già stato fatto tutto, veniva portato alla tomba, alla casa del K. e qui il sacerdote, la prima cosa che faceva, era il rituale dell'apertura della bocca. Perché faceva questo? Perché con questo rituale ridava vita a tutte le facoltà del defunto che si erano assopite nel momento della morte. Infatti gli egiziani avevano proprio questa credenza. Le facoltà psichiche si assopivano e poi dovevano essere attivate dal sacerdote e chiamavano questo periodo il riposo. Quindi c'era proprio questo procedimento scientifico. C'è da dire che in questo rituale il sacerdote egiziano, operando con degli strumenti rituali, andava ad agire in dei punti precisi della mummia, quindi sugli occhi, sulla bocca e poi su vari organi, proprio per attivare e rendere ad essi tutte queste facoltà. E c'è da dire che inoltre durante questo rituale il Ka veniva poi legato alla statua del Ka. La statua presenta all'interno della tomba che rappresentava proprio il Ka del defunto. Qui lo vediamo in queste diapositive. Ho portato due esempi perché questo aspetto della statua del Ka è molto importante e va capito. In questa prima immagine vediamo la statua del Ka che è stata ritrovata nella tomba del faraone Tutankamon, mentre questa seconda immagine è la statuetta del Ka ritrovata all'interno della tomba di un sacerdote. Ora, da questo si può vedere e si capisce bene che queste statue non avevano una natura celebrativa del defunto, perché lo vediamo bene da questa seconda immagine. È anche bruttina da vedere, addirittura porta tutti i segni, tutte le cicatrici che il defunto aveva in vita, ma poteva essere grande, piccola. E quindi si può capire come questa statue avesse un aspetto funzionale, ovvero serviva al Ka, quindi doveva avere esattamente l'aspetto esteriore che il defunto aveva in vita, affinché il Ka del defunto la riconoscesse come propria e vi si legasse. Aveva proprio questo aspetto preciso. Cioè era fatto tutto ad arte, secondo dei procedimenti proprio studiati a tavolino. Ora, ho detto prima che il Ka è il doppio del corpo fisico e essendo il doppio ovviamente proseguiva la sua vita anche nella tomba in modo, diciamo, come un automa, perché portava in sé tutte le abitudini e tutte le tendenze che il defunto aveva avuto in vita. Come un robot, diciamo così, viveva di memoria, di abitudini, di emozioni, tutte registrate durante la vita. E proprio per questo motivo all'interno delle tombe gli antichi egizi disegnavano proprio delle cose, anche di vita, proprio della vita che il defunto aveva vissuto qua sulla terra. Questo perché il Ka doveva vivere qui all'interno della tomba e attraverso la visione di queste scene di vita dipinte poteva impersonarsi e vivere e continuare a vivere. La vita aveva vissuto già quando era vivo sulla terra. E non solo all'interno della tomba c'è da dire che venivano messe anche diverse statuette. Queste statuette rappresentavano tutti i servi, tutti i danzatori, i cortigiani che aveva, quindi tutto l'entourage che lui aveva in vita, che era intorno a lui. Proprio perché il Ka potesse continuare a vivere in modo automatico, come se fosse ancora in vita. Veniva, diciamo, in qualche modo ingannato, proprio per rimanere lì all'interno della tomba. Di queste statuette, le più note sono i cosiddetti usciapti, che erano delle statuette di servi agricoli su cui era iscritta la formula numero 6 del libro egiziano dei morti, così intitolata. Formula per far sì che gli usciapti compiano i lavori nelle necropoli. Avevano trovato anche il sistema per non lavorare nell'aldilà. Infatti la parola usciapti significa proprio rispondere, nel senso che rispondevano proprio al richiamo del loro padrone quando non avesse avuto la necessità. Ora ho detto che il Ka, per sopravvivere all'interno della tomba, aveva bisogno innanzitutto della mummia presente, della statuetta del Ka, ma aveva anche bisogno di nutrirsi per sopravvivere. Ecco che per nutrire il Ka ovviamente era presente una ben precisa casta dei sacerdoti, proprio perché il Ka per nutrire si aveva bisogno di assumere delle sostanze di una natura simile alla propria. Ecco che quindi i sacerdoti nei braceri bruciavano tutte le offerte insieme all'incenso e quindi il fumo che poi saliva poteva essere assorbito dal Ka e quindi il nutrirsi per il Ka per poi continuare a sopravvivere. C'è da dire che gli egiziani avevano trovato la soluzione anche nel caso in cui questo nutrimento fosse venuto a mancare. Infatti nel libro egiziano dei morti ci sono proprio delle formule capaci di evocare queste offerte, proprio attraverso quel potere magico attribuito alla parola. Ora, gli egiziani attribuivano tutte queste attenzioni al Ka anche perché abbiamo detto che il doppio veniva chiamato anche fantasma, perché sapevano che nel caso in cui fosse uscito dalla tomba avrebbe potuto disturbare anche i viventi. Infatti non è raro trovare nei pressi della tomba delle lettere rivolte dai familiari al Ka del defunto, proprio perché il Ka poteva disturbare soprattutto le persone con cui era rimasto al momento della morte con dei rancori o con dei conti in sospeso. Io, per fare un esempio, ho portato la lettera di un marito alla moglie, che praticamente era stata ritrovata, se non sbaglio, vicino a Menfi, e praticamente era un rotolo di papiro inserito in una statuetta del Ka che rappresentava la moglie. E' come direttamente l'inizio postale dell'epoca con l'oltretomba. Messo vicino alla statuetta del Ka della moglie, proprio per dire guarda al Ka della moglie, guarda, è indirizzata a te, leggila, è per te. E in questa lettera, non sappiamo il nome del marito, però sappiamo il nome della moglie, è indirizzata alla moglie Anchiri. È una lettera lunghissima, però io ve la sintetizzo, perché praticamente il marito, il funzionario del faraone, chiede alla moglie di togliere la mano che aveva posto su di lui, probabilmente perché stava vivendo un momento negativo delle influenze nefaste, e quindi dà la colpa alla moglie. E gli dice, guarda, durante tutta la mia vita io ti ho seguito, ho seguito il faraone, sono andato in lungo e largo per l'Egitto, non ti ho mai lasciata a casa, ti ho sempre portata con me. Addirittura poi le dice, non le ha mai fatto mancare niente, nel momento della vecchiaia non l'ha sostituita. E finisce la lettera dicendo, guarda, sono tre anni che sei morta, addirittura ancora non ho preso moglie. E finisce dicendo, quindi, visto tutto questo, visto che sono sempre stato fedele, eccetera, lasciami in pace, altrimenti ti dovrò portare davanti al Tribunale degli Degli. Fa proprio questa, anche se nelle ultime righe si capisce il motivo per cui scrive alla moglie, perché sembra che nella casa ci fossero altre donne, quindi voleva evitare quello che era chiaro, ovviamente. Scrivendo alla moglie, insomma, c'è anche queste cose. Poi tra l'altro si ritrovano anche delle storie di fantasmi, sempre riguardanti l'Egitto. Ci sono tante cose interessanti, insomma. Detto questo, dopo questo preambolo, c'è da dire che poi all'interno... Saltate... E poi il rituale fumava all'interno della tomba e venivano eseguiti degli scongiuri proprio a protezione della mummia del defunto, proprio perché la mummia doveva sopravvivere, secondo gli egiziani, per tutta l'eternità, doveva rimanere integra. E proprio a protezione della mummia facevano questi scongiuri proprio nei confronti di tutti gli animali, tutte le cose, e potevano danneggiarla, ad esempio, nei confronti delle blatte, degli insetti, dei serpenti. E addirittura poi, siccome avevano la credenza che con la lettura del libro egiziano dei morti addirittura i giroclifici prendessero vita, andavano a cancellare tutti i giroclifici che potevano avere la forma di un serpente, di un insetto, tutto quello, e poteva danneggiare la mummia o gli oggetti presenti all'interno della tomba. E c'è da dire che poi, quando tutto era compiuto, che cosa faceva il sacerdote? Faceva uscire intanto tutti coloro avevano assistito al rituale funerario e prima di uscire usciva piano piano guardandosi all'esperienza e addirittura con uno strumento particolare andava a cancellare le impronte e aveva lasciato, proprio perché si doveva assicurare che il CAD del defunto non lo seguisse, il CAD doveva rimanere all'interno della tomba. E uscito dalla tomba, ovviamente dopo essere assicurato di questo, chiudeva la tomba e la sigillava perché nessuno dovreva entrarvi, ma soprattutto il CAD del defunto non doveva uscire. Infatti, e qui si vede come c'è proprio un aspetto scientifico studiato per far sì che il CAD rimanesse proprio all'interno della tomba. Avevano studiato tutto. Il corpo, la mummia che doveva fungere dal corpo fisico affinché il CAD si attaccasse e rimanesse lì presente vicino alla mummia. La statua del CAD che doveva sostituire il corpo mummificato nel caso in cui si fosse distrutto. Tutti gli oggetti presenti all'interno della tomba che poi in linea di massima erano gli oggetti che il defunto usava in vita, che era solito usare. Le scene pittoriche e tutto. Insomma, diventava più che una casa, diciamo, una prigione del CAD. Questo perché? Perché avendo imbrigliato all'interno della tomba tutti quegli aspetti inferiori, più bassi dell'essere, il BA, che era quell'aspetto animico e spirituale dell'individuo, poteva compiere il suo viaggio e superare le prove fino ad arrivare, lo vedremo fra un po', alla psicostasia. Dopo aver superato tutti questi ostacoli, arrivava alla prova finale che abbiamo detto prima doveva superare in tutti i modi. Dopo aver superato tutte queste prove, l'anima del defunto giungeva davanti a un tribunale dove subiva il giudizio davanti ad Osiride. Entrava l'anima del defunto nella sala della verità, così era chiamata dagli egiziani, e vediamo in questa diapositiva, entrava la presenza di Osiride, poi in questa stanza troviamo i 42 giudici, che sono quei piccoli babbuini che si vedono lì sopra, poi abbiamo una bilancia sul cui piatto è posto il cuore spirituale dell'individuo, mentre dall'altra parte c'è una piuma, piuma che rappresenta la Dea Mat, che era la Dea della verità e della giustizia. Poi abbiamo, troviamo qui, lo vediamo Anubi e d'oro che sistemano la bilancia e Thoth con un libro e un taccuino che prende appunti. E all'interno della sala troviamo, vediamo un mostro, il mostro Ammit, che ha la testa di coccodrilli, corpo di leone e poi anche di altri animali che ora non ricordo, ma che era chiamato il divoratore delle anime oppure il divoratore per mille anni. Poi aveva altri nomi ma tutti terribili perché aveva una funzione precisa che vedremo fra un po'. Nel caso in cui l'anima del defunto non avesse superato la prova sarebbe stata mangiata da questo mostro e sarebbe morta per l'eternità, sarebbe stata cancellata dalla reazione. Ora, l'anima entrando in questa sala iniziava dapprima la sua confessione negativa secondo delle formule prestabilite anch'esse presenti all'interno del libro egiziano dei morti. E cosa diceva? Ce ne sono alcune, sono tantissime queste frasi, ci sono pagine e pagine di queste frasi. Ad esempio, alcune sono non ho commesso con perfidia male a nessun uomo, non ho reso infelice il mio prossimo, non ho rubato quello che era nel tempio, mi sono sempre ricordato di portare le offerte al tempio, tutte, eccetera, eccetera. Poi ce n'è una simpaticissima che dice e non mi sono riempito alla casa della birra così tanto da non pronunciare parole che non sappia di aver detto. Quindi, questa è simpaticissima perché già da qui, già da queste frasi si capiva anche com'era la mentalità egizia. Già qui si vede che i pub non hanno inventato gli inglesi, ma gli egiziani. E poi si capisce come ci sia un aspetto morale ferreo, assoluto che gli egiziani dovevano rispettare già in vita, altrimenti non avrebbero superato questa prova. Ora poi l'anima fatta questa confessione si rivolgeva ai 42 giudici. continuando da prima ad elencare tutto quello che aveva fatto di male per poi elencare tutto quello che aveva fatto di bene. E terminate queste confessioni Anubi pesava il cuore sul piatto della bilancia. Ora, se il cuore risultava più pesante della piuma, il cuore è stato in pasto, l'ho detto prima, questo mostro terribile, e l'anima del defunto subiva, diciamo, una morte definitiva, una seconda morte, diciamo così, di pratica veniva cancellata dalla creazione. Quindi l'antico Egizio sapeva bene che l'unica possibilità che aveva era quella di superare la prova. Quindi è ovvio che si preparasse già in vita. E quindi, se il cuore avesse equiparato il peso della piuma, che abbiamo detto prima rappresentava la verità e la giustizia, allora sarebbe stato, l'esito sarebbe stato annunciato da Nubi e Thoth avrebbe annotato l'esito sul libro. Quindi che cosa significa il fatto che Thoth annoti l'esito sul libro? Significa che il defunto era stato inserito nel libro della vita. Ora, è ovvio che se il cuore equiparava la bilancia, significava proprio che il cuore era diventato uguale, si era guadagnato all'interno di se stesso proprio questo aspetto di verità e di giustizia che corrispondevano proprio a queste virtù rappresentate dalla Dea Amat. Ora, una volta stato l'esito, Thoth, se era stato favorevole, pronunciava la frase fatidica che il cuore si è rimesso sul luogo della persona nell'osilide a cui seguiva la persona e queste parole erano il segno della definizione dell'individuo. Il defunto a questo punto prendeva la denominazione giustificata e poteva scegliere se vivere nei campi Iaru e viaggiare sulla barca di là oppure se tornare come cane nella sua tomba. Era diventato libero, in pratica, poteva fare quello che voleva. ora, da quello che vi ho detto ora, che cosa si può capire? Intanto, innanzitutto, che gli egiziani avevano un concetto teista, ovvero che loro credevano in una divinità creatrice e a degli idee a cui dovevano il loro operato che avevano effettuato durante la vita. E poi, e soprattutto da quest'ultima scena della apostasia, si capisce bene come avessero una morale diciamo assoluta da seguire, perché abbiamo visto che non avevano altre possibilità, o superavano la prova o non la superavano, quindi erano ben consci di dover prepararsi già in vita, anche se questo non emerge molto dalla lettura del libro egiziano dei morti, questo però da queste scene si capisce bene che era così. Tra l'altro, nel libro egiziano dei morti, soprattutto nel papiro di Torino, nelle ultime parti ci sono proprio delle preghiere che i congiunti dovevano recitare in favore proprio del depunto, quindi si capisce che questo libro lo possedevano già in vita, già prima della morte, anche perché abbiamo visto che tutto quello che facevano è fatta d'arte, in modo scientifico, non c'era niente fuori posto e loro, lo sappiamo, si preparavano e preparavano le tombe già dalla giovane età, si preparavano molto presto per il momento della morte. E poi abbiamo visto che esiste un giudizio nell'aldilà, è la prima volta che lo vediamo e nelle prossime conferenze vedremo come si evolva quest'idea del tribunale anche nelle altre culture fino ad arrivare alla nostra concezione cristiana che analizzeremo poi nella terza conferenza. del tribunale Grazie a tutti.